Se i suoi vicini fanno parte del problema, probabilmente è meglio che vada a parlare con loro. Deve continuare a vivere loro accanto, quindi deve cercare di mantenere un rapporto di qualche tipo e questo non significa che dovete essere amici per la pelle, ma in ogni caso continuerete ad incontrarvi. Penso perciò che sia sempre meglio che la persona coinvolta nel problema o nelle discussioni sul problema da risolvere sia quella che concretamente si rivolge poi all'altra. È importante che tutte le parti, ciascun vicino, tutti i vicini siano coinvolti nel tentativo di risolvere una disputa, perché c'è un rapporto duraturo, perché le persone devono andare d'accordo per molto tempo. Se è possibile risolvere un problema da soli, è davvero importante. Ci sono volte in cui questo è difficile e la presenza di una terza persona neutrale si dimostra veramente utile per spegnere un po' la polemica, rasserenare le conversazioni, per aiutare a facilitare il dialogo. È possibile coinvolgere altri nella disputa e spesso la presenza di qualcuno non coinvolto emotivamente nella questione. È una buona idea, perché possono aiutarvi a vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi coinvolgere un amico, un familiare, a volte persino il vostro compagno, può essere una buona idea. Se siete a casa, se pensate continuamente ad una particolare disputa, coinvolgere qualcun altro forse può aiutarvi a stemperare un po' dell'emozione legata alla situazione e può essere un buon modo per fare un passo avanti. Coinvolgere un amico, un familiare, oppure a volte un altro vicino che vi conosce entrambi, che può venire ad aiutarvi a cercare di risolvere la situazione. Deve anche prendere in considerazione il fatto che se il problema si protrae nel tempo e sembra che non riusciate a risolverlo da soli, può essere perché voi e vostro vicino siete su posizioni opposte. Potreste dover coinvolgere una terza persona, magari un amico comune, un vicino, la cui proprietà è adiacente a quella del vostro vicino, per tentare di individuare i problemi che avete con il vostro vicino e vedere se questi problemi possono essere risolti in qualche modo oppure no, almeno per capire se non sia il vostro rapporto che vi rende incapaci di risolvere la questione.